I misteri di Taranto, i misteri dell'amministrazione Melucci. Siamo qui presso la rotonda del lungomare e nei giorni del 16 e 17 dicembre, quindi pochi giorni fa, si sarebbe dovuta tenere proprio qui la fiera del mare. Una determinazione dirigenziale assegna l'organizzazione, la promozione e la realizzazione della fiera del mare attraverso un bando, viene assegnato alla Pirene SRL. Parliamo di fondi pari a uno stanziamento di 200 mila Euro, rivenienti appunto da fondi regionali. Cosa misteriosa, la fiera del mare non si fa più, non si è più tenuta. Cosa incredibile, no? 16 e 17 dicembre, nulla. Abbiamo visto montare dei gabbiotti, montare dei gazebo e poi misteriosamente la fiera del mare non si è più tenuta. Mistero, come mai? Come mai sindaco Melucci? Come mai ex assessore alle attività produttive, non che vice sindaco Gianni Azzaro? E voi parlate di voler promuovere il territorio, far crescere il territorio? Avete scialacquato in tre edizioni 12 milioni di Euro circa per il 6GP e poi qui nulla, nulla. Vedete il deserto? Vedete una bellissima zona, le immagini parlano chiaro, guardate, fantastico. Quindi immaginate come sarebbe stato bello valorizzare la risorsa mare. Prego il nostro operatore di soffermarci queste immagini fantastiche. Proprio qui, oltretutto, grazie a Dio, abbiamo anche un clima molto, ma molto clemente. Siamo a dicembre, ma sembra quasi di essere in primavera, veramente si sarebbe potuto dare una mano forte, importante per promuovere il territorio. E invece no. In altre città d'Italia si fanno eventi, si rispettano le tradizioni, si fanno i mercatini, si fa tutto sfruttando le risorse naturali, quelle risorse naturali che madre natura ci ha dato. Una rotonda fantastica, avremmo potuto allestire tutto qui, peraltro fondi regionali? Nulla, nulla. Ma perché non abbiamo ancora risposte? Noi stiamo chiedendo nelle commissioni, attraverso l'iter normale, l'iter ordinario. Perché? Silenzio assoluto. Abbiamo il deserto, abbiamo quasi 15-20 gradi, un sole fantastico, che per dicembre è un miracolo, che tutta l'Italia, tutte le città italiane, Dio santo, ci invidiano. E invece, vedete? Nulla. Nonostante la determinazione dirigenziale, e la cosa ancora più strana è che non ci sono risposte. Così dobbiamo fare turismo? Così dobbiamo promuovere il territorio? Così dobbiamo fare marketing territoriale? Ecco un'altra occasione persa. 200 mila euro, che era una cifra abbordabile, invece 7 milioni e mezzo per il 6GP per buttare un po' di soldi, in tutto 12 milioni in tre edizioni di 6GP. E qui, il deserto. Fiera del mare, dove sei? Scomparsa nel nulla. I misteri di Taranto, i misteri dell'amministrazione Melucci.